La fregolante Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info è che non riesco a capire se mettere la terza e poi scalare il secondo oppure se... dentro la curva, nella... si, si può fare ma... si riesce a mettere meglio perchè nei cambi di trasferimento si gira la mano fanno molto questo gioco, piuttosto che tenere... non si è perfetto... l'ha fatta troppo larga e ha chiuso troppo dentro... non è vero, non è vero, non è vero, non è vero...